Sono disperato, queste le parole che un 71enne della provincia di Pescara ha scritto su un foglio. E con quel cartello in una mano e coltello e martello nell'altra, l'anziano ha rapinato l'ufficio postale. È successo a Rosciano lo scorso 8 ottobre. L'uomo si è recato alle poste, ha pazientemente aspettato il proprio turno e si è recato allo sportello indossando la mascherina. E tirata fuori la lama, si è fatto consegnare i soldi della cassa. Si è poi allontanato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri della stazione di Rosciano e della compagnia di penne hanno impiegato una settimana per dare un volto a quell'uomo che, spinto dalle difficoltà, ha deciso di andare a rubare. Setacciate le immagini della videosorveglianza, i militari hanno individuato il rapinatore, un 71enne senza alcun precedente penale. Scattata la perquisizione, in casa dell'anziano i carabinieri hanno trovato gli abiti e gli oggetti usati per la rapina, parte della rifurtiva, e quel foglio su cui il 71enne aveva deciso di manifestare le sue intenzioni, minacciando in maniera esasperata gli impiegati e ammettendo le sue difficoltà, per mostrarsi senza scrupoli certo, ma anche per volersi quasi giustificare di quel gesto che ora gli costerà caro. La giustizia infatti non ammette pietismi, l'uomo dovrà rispondere dei reati di rapina aggravata e porto abusivo di arma bianca.